Ciao ragazzi bentornati sul mio canale, oggi voglio dirvi un po' di cose, voglio dirvi come si evolverà il canale, che cosa succederà, che cosa vedrete appunto qui sul canale nelle prossime settimane, spero per tanto tempo e come sapete da fine settimana scorsa facevo uscire un video a settimana da lunedì al venerdì per un totale di 5 video a settimana e le cose cambieranno, spero il meglio per voi, spero che continuerete a seguirmi, spero che continuerete a darmi il vostro supporto, quello che mi avete dato fino adesso e che mi fa tantissimo piacere e che mi fa continuare a fare quello che faccio. Quello che succederà è che i video da 5 diventeranno 3 e verranno pubblicati, ho pensato, lunedì, il giovedì e il sabato sempre alla solita ora, all'una e mezza, come vedete tutti quanti i video che avete visto fino adesso. Spero che l'idea vi piaccia, io sto facendo questa cosa perché penso che stare dietro a 5 video a settimana è una cosa che non tutti possono fare e spero di riuscire a dare gli stessi contenuti che do in 5 video a settimana concentrandoli appunto in 3, quindi magari vedrete nei video più prodotti invece che soltanto uno, cioè invece di fare la recensione di un singolo prodotto o il test di un solo prodotto, magari nello stesso video proveremo 3 prodotti, parleremo di un marchio invece che soltanto di un prodotto parleremo delle nuove uscite di un marchio invece che soltanto di un prodotto appunto come avete visto fino adesso non ci sarà una tabella precisa, cioè non sarà come fino a settimana scorsa in cui il lunedì e il venerdì c'era un video random il martedì c'era un video recensione, il mercoledì c'era il test del fondotinta e il giovedì c'era un video test se avevate capito questo era un po' lo schema che avevo dato al mio canale non ci sarà più uno schema così preciso ma i video usciranno un po' random quindi se il sabato mi va di fare una recensione perché esce un nuovo prodotto e voglio parlarvene sabato uscirà una recensione ma potrà uscire anche di lunedì o di giovedì voglio rassicurarvi dicendovi che non cambieranno i contenuti del canale non è che vi dirò meno cose, non è che ci metterò meno impegno assolutamente no, è assolutamente il contrario spero di riuscire a darvi più informazioni di quelle che vi do adesso in un video soltanto invece che in tanti video come appunto facevo fino a settimana scorsa quindi per questo dovete stare assolutamente tranquillissimi non trascurerò il canale, non trascurerò i video come ci mettevo il 1000% a fare 5 video in una settimana metterò il 2000% per farne 3 in una settimana voglio parlarvi anche di un altro grandissimo cambiamento a me piace un sacco girare i vlog ma non mi sembra il caso di mettere i vlog all'interno di questo canale quindi vedrete sì 3 video a settimana in questo canale ma quello che succede è che ho aperto un canale in parallelo in cui vi farò soltanto dei vlog quindi ci sarà appunto il mio canale dei vlog e spero che vi farà piacere lo trovate cliccabile qui sopra in questo momento e sotto nell'info box è già uscito un vlog che ho girato nel giorno del mio compleanno che era questa domenica siamo andati, non vi dico dove se volete andare a vedere e a scoprire che cosa ho fatto il giorno del mio compleanno andate a vedere in quel video lì, secondo me è venuto un vlog carinissimo mi piace un sacco girarli, mi piace un sacco montarli spero che vi piacerà vederli e seguirli anche a voi quindi mettete in pausa questo video e andate subito a vedere quel video lì e iscrivervi al nuovo canale spero che per voi sarà un'idea carina se volete scoprire qualcosa in più di me se vi piace seguirvi nella mia giornata se appunto vi piace scoprire un po' di più come è il mio carattere quello che faccio oltre a appunto questo qui oltre a truccarmi a stare nel mondo del beauty nella mia vita c'è altro e spero di riuscire a trasmettervelo e a rendervi partecipi di questo del resto che c'è nella mia vita appunto nell'altro canale spero che vi possa far piacere che vi iscriverete in tantissimi al nuovo canale so che sarà una strada in salita come l'ho stato per questo canale sarà difficile guadagnare gli iscritti nuovamente appunto come ho fatto su questo canale su un nuovo canale e quindi appunto spero che mi darete il vostro supporto anche lì andando ad iscrivervi o a mettere mi piace il video insomma o a guardare che cosa ho combinato nel nuovo canale non ci sarà una scaletta ben precisa cioè non ci sarà, non lo so, ogni mercoledì uscirà un vlog ma farò uscire un vlog quando riesco a fare qualcosa di divertente e quando riesco a portarvi con me nella mia giornata per farvi vedere qualcosa di figo cioè non è che mi riprendo tutto il giorno a me così senza farvi vedere altro ma appunto quando faccio qualcosa di divertente qualcosa di carino che magari voglio condividere con voi lo vedrete in un video e non ci sarà una scaletta ben precisa ma i vlog usciranno quando riesco a girarli poi vedremo come si evolverà anche lì il canale se vi piacciono, non lo so, se vi piacciono dei video in cui chiacchiero per 30 minuti sicuramente vi farò dei video in cui chiacchiero per 30 minuti se vi piacciono dei video in cui vi faccio vedere i miei viaggi che cosa faccio, lo so, la domenica vado in una città e vi porto con me nella città che vado a visitare sicuramente farò quel tipo di vlog questo è quanto ragazzi io spero tanto che tutte queste novità vi piacciano spero che non smetterete di seguirmi ma al contrario che mi seguirete ancora di più di prima perché sarà più facile starmi dietro guardando tre video a settimana piuttosto che cinque io vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che mi date e per quello che state facendo per me spero che il canale continuerà a crescere e che migliorerà sempre di più e che anche io riuscirò a portarvi dei contenuti sempre più belli e sempre aggiornati vi mando un grandissimo bacio vorrei darvi un abbraccio a tutti quanti e niente ragazzi ci vediamo nel prossimo video e sul nuovo canale mi raccomando andatevi ad iscrivere ciao ciao